il film il film che si titola allacciata cinture francesco scianna ed elena sofia ricci già sono due attori che fanno parte del caso di questo film eccolo qua all'azione delle cinture il nuovo film quando esce? dal 6 marzo ragazzi attenzione fuori programma sui piedi su una gamba ti prende bene come quando balli samba o te lo sta sul beat come al rugby all black fuori programma a Fersa Nospetek Fersa Nospetek è arrivato uno dei migliori anzi il migliore sicuramente il miglior regista turco che c'è in Italia calo Fersa allora prima di parlare del tuo film ti volevo presentare questa ragazza che si chiama Shadeh Mangiaracina è siciliana ed è una valente pianista jazz adesso ci regalerà un pezzo così un svisature cose quello che ti pare basta che ci fai impazzire ci devi fare morire dal 6 marzo Alla vostra ragazzi al vostro film allacciate le cinture che uscirà il 6 marzo il 6 marzo ti saluti qua a festeggiare l'uscita del film ricordiamo tra l'altro nel cast a parte Elena Sofia Ricci e poi Gianna ci sono anche Francesco Arca Francesco Arca Paola Miniacioni Carla Signori Filippo Scicchitano Carolina Crescentini Giulia Michelini Paola Miniacioni Chi non hai preso questo film? Facciamo prima chi non ha preso per fare questo film? Allora possiamo festeggiare ragazzi vogliamo festeggiare allora ci sono stati insegnati come edicola fiore tutti quanti del premio regia televisiva che hanno istituito apposta il premio per il miglior programma sul web Globo Scicchia e il giratore e il vibrazione ti porta il buon umore no bravo non bravo che io ho rischiato una volta sei stato scemo perché è fichissimo stare sul set o spedetto codice fiscale allora bisogna sapere una cosa che volevo dire che mi è successo oggi non è successo oggi ma ci ho dovuto stavo avvenuto non troppo ecco gli asamblei sta diventando biora già lo vedo non tossisco ah non tossisci alloce penso io bellissima ospite all'accia della città e francesco sanzo ed elena no aspetta elena poi sofia ricci bellissima benedetta figliolo tanti cazzo dell'amica grazie